Siamo in grado di accompagnarvi sempre grazie a una gamma completa di soluzioni studiata per realizzare i vostri progetti, dalla più semplice applicazione quotidiana alla più complessa. Con le nostre soluzioni certificate garantiamo le migliori prestazioni. La resina universale HY170 è ideale per ancoraggi sicuri su una vasta gamma di materiali base. Utilizzata con il dispenser a batteria HDE a dosaggio controllato, fornisce un'iniezione facile e senza sprechi. Il sistema MQS SP, approvato secondo gli standard Factory Mutual, assicura la resistenza ad azioni sismiche degli impianti Sprinkler. Il sistema di supporto MFT, abbinato ai tasselli versatili in plastica HRD con marcatura CE, garantisce sicurezza nelle facciate ventilate. L'ancorante chimico in fiala HVU-TZ, approvato con carichi dinamici, è la soluzione ottimale per il fissaggio di macchinari in applicazioni industriali. Con la nostra innovazione siamo sempre al vostro fianco per rendere straordinaria ogni vostra impresa. Soluzioni ILTI. Costruiamo al vostro fianco.